Sistemare il Tempio Voltiano per Expo sarebbe auspicabile, ma fino a che non verrà stabilita la tecnica di intervento non potremo azzardare previsioni sui tempi. Parole dell'assessore alla cultura del Comune di Como, Luigi Cavadini, aggiorna sulle condizioni di un simbolo della città, il Tempio Voltiano dei Giardini a Lago. Un museo che dall'estate scorsa a causa di un crollo funziona al 50%. Nella notte tra il 4 e il 5 luglio si era staccata una massiccia porzione di intonaco, circa due metri quadrati. Il Comune di Como aveva quindi ordinato indagini diagnostiche di natura strutturale e chimica per cercare di capire le cause del distacco. Nei giorni scorsi Palazzo Cernezzi ha liquidato enti e professionisti che hanno effettuato quelle indagini con un importo di poco superiore ai 6.300 euro. Per la precisione 2.989 euro alla società tecnoindagini di Cormano e 3.391 euro al Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia dell'Università dell'Insubria di Como. Queste indagini, spiega l'assessore Cavadini, consentono di mettere a punto il metodo di intervento. Ora i tecnici stanno lavorando proprio sulla modalità di intervento che ancora non è stata decisa. Le analisi, aggiunge Cavadini, sono servite per mettere nero su bianco le criticità della struttura, in modo tale da capire come effettuare i lavori. Lavori che non è detto possano terminare per l'apertura di Expo 2015, fissata per il primo maggio. Sarebbe auspicabile ma non posso dare garanzie, conclude Cavadini, dipende dalla tipologia di intervento. Nel frattempo il piano terra del Tempio Voltiano, dove sono conservati i materiali storici, resta visitabile, mentre è inaccessibile il piano superiore, la zona più didattica del museo.